Litz Farsi attendere è un vezzo civettuolo e irriverente che può far diventare impaziente che all'attesa non è avvezzo Sì beh, per l'estare è imperativo Guarda Litz, per lei fu distintivo e peculiare al punto tale che tardò anche al suo funerale Non di meno io sto per uscire Che fai? Vuoi restare o vuoi venire?